orbita yoga il mio podcast il mio viaggio intorno al mondo dello yoga e galassie limitrofe benvenuto un nuovo episodio di orbita yoga podcast oggi parliamo di yoga e strumenti per il rilassamento profondo la premessa che sono una persona veramente ansiosa basta che passino pochi giorni senza che io mi prendo a cura di me immediatamente torna l'ansia non riesco a dormire bene a volte non riesco neanche a respirare appieno mi trovo nel bel mezzo della giornata in apnea e mi chiedo che cosa sta succedendo ed è sicuramente stato per questo motivo che mi sono avvicinata inizialmente allo yoga nonostante io mi considero una persona molto razionale ed ero quasi respinta da questa disciplina da questa pratica e invece ho cominciato ad avvicinarmi diciamo per necessità e ho cominciato a sentire i benefici ho cominciato a studiarla a praticarla e poi come sapete a cercare di renderla una parte fondamentale della mia vita ho trovato spazio perché io veramente potessi potessi praticarla ogni giorno vi dico questo per spiegarvi che il mio percorso nello yoga non ha mai avuto come motore la pratica degli asana delle posizioni la ricerca degli asana più impegnativi sempre stata una conseguenza della costanza con cui praticavo per altri motivi e cioè per cercare strumenti che mi portassero a rilassarmi a stare meglio a dormire meglio respirare meglio ho provato tantissimi stili e non sono sicuramente qui a dirvi che uno è meglio di un altro penso che siamo tutti differenti e che quindi ognuno di noi debba se lo desidera cominciare un percorso per cercare quegli strumenti che funzionano meglio per lui per il tipo anche di vita che conduce per per i suoi bisogni e le sue necessità però ecco naturalmente nel corso degli anni ho ho trovato quali sono per me gli strumenti che funzionano meglio e mi è venuta voglia di condividerli perché penso che possono sempre essere comunque utili come spunto per provare qualcosa di nuovo e magari da lì trovare già subito qualcosa che funziona anche per voi oppure muovervi da lì per trovare altro che funzioni per voi e la cosa particolare di questi strumenti che utilizzo per stare a galla possiamo dire è che hanno una caratteristica in comune una sorta di fil rouge che li unisce e cioè l'oscurità il buio il fatto di poter essere praticati ad occhi chiusi e io appunto li pratico rigorosamente così praticare qualcosa ad occhi chiusi vuol dire riuscire a portare ancora di più l'attenzione all'interno essere consapevoli di quello che succede dentro e a rendere una pratica ancora più introspettiva silenziosa in ascolto anche in contatto e però per spiegarvi meglio perché secondo me questa questa caratteristica questo essere ad occhi chiusi questa oscurità sia importante voglio usare le parole di di una poetessa che quasi mi commuove perché quando la leggo sembra che dia voce in qualche modo al mio cuore sicuramente trova delle parole più giuste rispetto a quelle che potrei trovare io e lei parla proprio di di cosa succede quando quando chiudiamo gli occhi per una pratica per una meditazione lei dice quando chiudiamo gli occhi vediamo l'oscurità spesso non ci facciamo caso perché popoliamo subito lo schermo vuoto di immagini pensieri rapinosi sogni paesaggi ma si può anche contemplare l'oscurità gli occhi fermi del cuore guardano morbidi l'oscurità senza forma e si lasciano disfare lo sguardo li cui fare opinioni sicurezze memorie racconti abitua contemplare l'oscurità di quando non capiamo non afferriamo un incantato momento per non solidificare l'esperienza per attraversarla come un pesce attraversa la massa d'acqua in cui vive senza domande mentre lasciamo che il sottile movimento dell'oscurità ci smonti possono arrivare le rivelazioni di colpo sappiamo perché abbiamo abbandonato qualcuno perché siamo stati abbandonati perché ci disperiamo perché stiamo scoppiando di vita piccoli frammenti ci raggiungono e sappiamo il sapere oscuro salta nessi e passaggi e ci rivela verità nascoste da sedimenti di buonsenso di tempo di faccia da salvare di dolori da cui difendersi se a poco a poco lasciamo che le nostre storture si staglino attraverso il buio e ci raggiungano navigando placide cosa ci potrà più offendere solo quello che non ci appartiene e allora non c'è bisogno di offendersi basta restituirlo al mittente perché l'indirizzo è sbagliato ecco i miei strumenti preferiti per raggiungere il rilassamento profondo sono ad occhi chiusi per questo per liquefare opinioni e sicurezze per perché arrivino rivelazioni e soprattutto liberazioni per trovare nell'oscurità uno spazio vuoto per riuscire a respirare a pieni polmoni e stare bene o quantomeno provare a stare meglio e questi strumenti per me sono la respirazione il pranayama quindi lo yemi yoga praticato in modo dolce e morbido e la meditazione che io declino spesso in meditazioni guidate e yoga nidra ecco questa triade è il modo in cui mi cerco di prendere cura di me ogni giorno e partendo dalla respirazione la respirazione meravigliosa perché non serve nulla puoi praticarla ovunque in qualsiasi momento non serve un tappetino non serve preparazione abbigliamento specifico basta chiudere gli occhi ascoltare l'aria che entra e che esce portare attenzione all'interno perdersi nessuno del respiro lo yoga ci fornisce tantissime tecniche diverse e alcune sono attivanti non tutte sono volte al rilassamento alcune appunto al contrario vogliono vogliono energizzarci e le tecniche che io preferisco per il rilassamento sono innanzitutto la respirazione yogica completa perché è banalmente la respirazione che sta alla base di ogni altra che ci insegna a respirare in modo consapevole e profondo e appunto completo poi amo le respirazioni che aggiungono un'ancora sonora per la mente e quelle che preferisco sono vario prana jama vario prana jama e con la respirazione in cui riproduciamo il suono del vento il il soffio del vento fra gli alberi quello in cui soffiamo fra le labbra chiuse creando una piccola o e appunto riproduciamo questo suono del vento fra gli alberi poi abbiamo bra mari prana jama bra mari prana jama che va a creare una un suono a bocca chiusa come se pronunciasti un home a bocca chiusa quindi una m silenziosa morbida che crea anche una vibrazione e poi abbiamo un già i prana jama o già i prana jama normalmente viene usato per le pratiche dinamiche ma è anche estremamente rilassante ed ecco il suono che produciamo quando creiamo un'occlusione a livello della gola della glottide ed è quel suono che per esempio facciamo quando vogliamo appannare un vetro no questo però a bocca chiusa questi tre suoni come ho detto aggiungono un ancora sonora e quindi la mente si concentra di più si rilassa di più riesce a rallentare di più e sono secondo me eccezionali anche perché molto molto semplici poi altre tecniche che adoro sono quelle a narici alternate in particolare la di shodhana pranayama e la chandra bedi pranayama questi sono due respiri in cui aggiungiamo un gesto delle mani per andare ritmicamente a chiudere una narice e poi l'altra il fatto di chiudere una narice rallenta sia l'inspirazione che l'espirazione e inoltre c'è questo gesto che un ulteriore ancora per la mente qualcosa in più che va ad assorbire la nostra attenzione a portarci a concentrarci completamente su quello che stiamo facendo ea dimenticare tutto il resto portandoci veramente rilassarci profondamente e infine per me almeno di roma pranayama in particolare vi roma pranayama b che è quello che si concentra sulla fase espiratoria è una respirazione fantastica perché perché va a usare i battiti del cuore per ottenere il ritmo del respiro è veramente meravigliosa passando un'altra tecnica di quelle di quelle tre di cui vi ho parlato lo yin yoga so che ho già dedicato un episodio a questo stile sapete perché lo amo ma perché ci aiuta con il rilassamento profondo non so se avete mai provato a tenere per 35 minuti una posizione che non è necessariamente comodissima non è facile non è facile perché la mente comincia a farsi frenetica comincia a urlare letteralmente la mente parte a razzo riempiamo i buchi in modo frenetico ma che cosa succede se impariamo in quella posizione per quel tempo così prolungato a calmare la mente succede almeno secondo me e per me è stato così che impariamo a calmare la mente in in tutti quei momenti di frenesia durante la giornata in cui fino adesso non abbiamo creduto possibile rilassarci ed è veramente una risorsa incredibile è secondo me l'antidoto in un certo senso alla schizofrenia delle nostre giornate ed è un po l'equivalente secondo me di smettere di scrollare il di instagram e aprire un bel libro inoltre nota pie pagina diciamo ci aiuta a lavorare tantissimo sulla flessibilità quindi un motivo in più per per adorarlo almeno secondo me e poi passiamo all'ultima tecnica forse quella un pochino più ovvia la meditazione a volte si pensa che per meditare si debba smettere di pensare si pensa che quello sia l'obiettivo invece non è così la mente pensa è quello che fa e quello che dobbiamo cercare di fare semplicemente essere presenti e consapevoli dei pensieri che corrono senza giudizio in un certo senso guardarli scorrere come un fiume in piena ma tu non sei più nel fiume ad annaspare ma sei sulla riva e li guardi semplicemente scorrere via e respiri profondamente e capisci a un livello profondo che quel pensiero non ti rappresenta non sei tu è altro da te e tu lo osservi e poi scegli di ritornare con la mente al suono del respiro ovviamente ci sono talmente tanti tipi di meditazioni che servirebbero dieci episodi solamente per coprirne la metà però vi voglio parlare di quelli che uso di più io visto che il tema di oggi sono gli strumenti di rilassamento profondo che funzionano su di me che utilizzo io ogni giorno e questi ve ne sarete accorti se seguite il mio canale perché cerco di condividere anche con voi queste pratiche sono lo yoga nidra e le meditazioni guidate anche brevi in un certo senso direi soprattutto brevi lo sapete che uno dei miei obiettivi principali sia nella mia vita che con il mio canale è promuovere una pratica personale che sia quotidiana quindi proporvi anche delle pratiche delle meditazioni guidate brevi che voi possiate fare veramente ogni giorno perché compatibili con qualsiasi tipo di giornata che possiate avere è veramente secondo me uno strumento prezioso anche perché nulla vi impedisce poi di sperimentare qualcosa di più impegnativo e di più lungo e quali tipi di meditazione io principalmente mi focalizzo su meditazioni di consapevolezza quindi che ci portino ad ancorare la mente all'osservazione di qualcosa che sia il respiro che siano i battiti del cuore che sia l'osservazione di quello che emerge quando pronunciamo una frase un'affermazione che sia anche una musica la cosa fondamentale secondo me è aprire un dialogo con te stesso ogni giorno ogni sapere che cosa ti è successo e non a livello di quali azione compiuto e che cosa è successo all'una del pomeriggio alle tre del pomeriggio ma che cosa è successo dentro di te infine per dire due parole anche sullo yoga nidra vi voglio prima di tutto citare un passaggio della del libro yoga nidra di suami satyananda e lui dice in yoga nidra non è importante rendersi pacifici anche se la mente è piena di ansia e preoccupazioni fantasie e immaginazioni mentre praticate non importa se siete disturbati non importa anche se state agonizzando mentalmente non importa se non riuscite a sdraiarvi a causa di qualche eccitazione alzatevi e vedete di cosa si tratta cercate di non essere troppo rigorosi e non sforzatevi nel rimanere assolutamente immobili in yoga nidra il fattore importante è semplicemente quello di esporsi alle istruzioni dell'insegnante e di osservare con totale consapevolezza e distacco qualsiasi esperienza che potrebbe emergere amo lo yoga nidra perché mi ha aiutato tantissimo risolvere i miei problemi di insonnia non devi fare niente devi chiudere gli occhi ascoltare le istruzioni dell'insegnante rilassarti il più possibile e cercare di non di non addormentarti infatti spesso si pensa che lo scopo sia addormentarsi durante la pratica in realtà è crei una zona di osservazione fra la veglia e il sonno ma rimane in teoria vigile ovviamente non arriva la polizia dello yoga se vi addormentate a me è successo un milione di volte e devo confessarvi è anche abbastanza piacevole quando succede quindi ecco non vi preoccupate però a onor del vero bisognerebbe rimanere svegli come funziona una pratica semplice rilassante efficace parte sempre dal corpo quindi in genere parte da quella che viene chiamato una rotazione di coscienza una sorta di body scan in cui andiamo a portare la nostra consapevolezza ogni parte del corpo rilassandolo gradualmente e poi utilizza varie tecniche l'evocazione di sensazioni l'esperienza degli opposti la visualizzazione di immagini ad esempio e appunto ti conduce a un rilassamento profondo ecco questi sono i miei tre strumenti preferiti e quella di oggi vuole essere una puntata un po speciale perché è anche un annuncio dell'annuncio di qualcosa a cui ho lavorato per molti mesi e che è veramente un regalo che faccio a voi e quindi questa puntata di orbita yoga podcast è l'inizio di un percorso un vero e proprio programma di yoga completo per il rilassamento profondo che pubblicherò interamente sul mio canale youtube quindi sarà sempre disponibile e del tutto gratuito e che appunto vi farà scoprire questi strumenti in modo un pochino più approfondito questo corso si chiamerà ad occhi chiusi per celebrare appunto questo fil rouge che unisce queste tecniche fra loro il poter essere appunto praticate ad occhi chiusi e quindi cosa succederà da lunedì 7 febbraio succederà che ogni settimana condividerò con voi quattro video quattro lezioni per condividere questi strumenti il lunedì vi insegnerò una tecnica di respirazione che poi il mercoledì andremo a praticare insieme il venerdì uscirà una pratica da un'ora di yoga che inizia utilizzando sempre quella respirazione e infine il il sabato o mattina o pomeriggio quindi se una meditazione guidata breve sarà la mattina mentre se yoga nidra sarà il pomeriggio e tutto questo andrà avanti per sette settimane quindi 28 appuntamenti un programma completo per il rilassamento profondo ad occhi chiusi sono davvero felice di poter continuare a condividere con voi questi contenuti perché dai feedback che ricevo dai messaggi che mi mandate capisco che sono d'aiuto e se riescono a essere d'aiuto anche solo una persona valgono veramente il tempo e l'impegno grandissimo che c'è per per crearli quindi grazie io vi aspetto per cominciare questo percorso insieme ad occhi chiusi grazie per aver ascoltato un nuovo episodio di orbita yoga podcast grazie per aver seguito questo nuovo episodio di orbita yoga podcast se volessi iniziare un percorso personalizzato di yoga o di pilates insieme a me puoi scrivermi a info punto orbita yoga chiocciola gmail punto com posso seguirti in presenza a milano oppure ovunque tu ti trovi online grazie ancora ti aspetto al prossimo episodio di orbita yoga podcast grazie per aver guardato il video